Cosa arriverà di più qui al sud? Cosa scusi? Cosa arriverà di più qui al sud per recuperare il gap con le scuole del nord? Ci vuole l'impegno del sud. In che senso? Vi dovete impegnare forte. Questo ci vuole. Più fondi? No, l'impegno. Quello secondo me non sta male, sta malissimo. Lavoro, sacrificio, impegno, lavoro e sacrificio. Grazie. Ma guarda che non c'è niente di politica in questo, cioè nel senso che noi siamo completamente al di fuori di certi giochi di potere, capito? Lavoro, sacrificio, impegno, lavoro e sacrificio. Grazie. Grazie di tutto perché sei stato di cuore, ci hai detto delle franzi veramente belle e noi ti ringraziamo tantissimo. Lavoro, sacrificio, impegno, lavoro e sacrificio. Grazie. Andiamo bene, proprio bene. Grazie. 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 Grazie.